E' chiaro che noi uomini abbiamo questo bisogno tremendo di verità, di poter dire io la so la verità, tu magari non la sai, ma tu non hai affatto una verità, ma la mia sì, sono sempre stati pochissimi, giusto Ponzio Pilato che dice che cos'è, ma in realtà gli uomini tendono a volerla e anche a credere di averla. Allora a quel punto invece poi subentra lo storico e dice sì, però è interessante vedere che in certe epoche te la immagini in un modo e cioè che te l'hanno rivelata dall'alto perché se fossi lasciato te stesso non ci arriveresti mai neanche morto a un briciolino di verità, quindi l'unico modo è stare lì nel deserto, aspettare che qualcuno ti parli e allora tu scrivi, prendi appunti e poi torni giù e hai un po' di verità da rivelar, da comunicare agli altri. E invece poi effettivamente nell'età moderna nasce questa cosa altrettanto arrogante in modo diverso, ma non di più, di dire no, noi la verità la scopriamo noi, ci mettiamo lì da bravi, studiamo e ce la scopriamo.